Buonasera a tutti, questa sera andremo ad analizzare nello specifico la nostra linea TRAP per percorsi di caccia e fossa universale. Partiamo con il calibro 12, abbiamo fatto questa cartuccia che si chiama Nestor TRAP 28 grammi con il contenitore piombo 7,5. Sempre per il calibro 12, per il percorso di caccia, abbiamo idealizzato questa cartuccia che si chiama Nestor Bior 28, senza contenitore, 28 grammi di piombo 7,5. Per il calibro 20 abbiamo fatto una cartuccia 24 grammi, piombo 7,5 sempre, con il contenitore che va bene sia per la fossa universale che per il percorso di caccia. Da due anni a questa parte abbiamo fatto una cartuccia calibro 28 e calibro 410 per gli appassionati di questi piccoli calibri che negli ultimi anni sono sempre più numerosi. Questa cartuccia è sempre piombo 7,5 calibro 28 in 21 grammi, mentre per il 410 sempre il piombo 7,5 19 grammi. Grazie a tutti.